L'Avvocato Falsone oggi vuole replicare all'Avvocato Arnone in merito delle dichiarazioni che ha rilasciato durante uno spazio autogestito della nostra emittente. Sì, più che una replica si tratta di un'anticipazione di uno spazio autogestito che nei prossimi giorni manderemo in onda, dove spiegheremo effettivamente quali sono le reali motivazioni di questo accanimento che Arnone ha nei miei confronti. In questa sede è sufficiente dire e ricordare allo stesso Arnone che lui è già stato condannato dal Tribunale Penale di Agrigento e dalla Corte d'Appello di Palermo per queste frasi diffamatorie e calugnose. Quindi aspettiamo l'esito della Cassazione, ma siamo fiduciosi che la Cassazione confermerà in pieno la sentenza di condanna della Corte d'Appello. Tra l'altro Arnone, è bene ricordarlo, risulta già pregiudicato perché ha due sentenze passate in giudicato, quindi definitive, per diffamazione. Mentre chi vi parla, è bene ricordarlo a coloro che non mi conoscono, è una persona incensurata, non ha mai subito un processo penale, non è mai stato rinviato a giudizio, né tantomeno ha subito processi penali alcuni. Mentre questo per differenziare la persona di Salvatore Falzone con la persona di Giuseppe Arnone, oltre alle sentenze penali che ha già subito il consigliere Arnone, ovviamente deve rispondere di altri reati ben più gravi. E' ovvio che a queste ulteriori frasi diffamatorie noi siamo già provvedendo a presentare un'altra querela per reati più gravi della semplice diffamazione, visto che il mero reato di diffamazione non riesce a far vergognare il consigliere Giuseppe Arnone. Quindi attenderemo con ansia praticamente nei prossimi giorni queste delucidazioni e voglio anticipare e ricordare al consigliere Arnone che queste invettive, queste intimidazioni non coglieranno il segno, perché non vanno altro che darmi la forza sempre più per poter impegnarmi in politica. e ringrazio comunque i miei sostenitori che continuano sempre a mandarmi a testati di stima.